La prima volta che sono entrata in questo posto avevo 26 anni ed era una sala biliardo in disuso già da diversi anni quindi ci voleva moltissima fantasia per capire un po' quello che mia mamma avesse in mente ma lei era una visionaria, una lungimirante e quindi lei aveva tutto chiaro. E' venuto fuori questo gioiello che è un'oasi in questa città. Scendendo quelle scale il nostro obiettivo era quello di coinvolgere tutti i sensi e far dimenticare ai nostri ospiti di essere a Palermo, di essere nel caos, di essere al Politeama. L'incenso coinvolge parte dei sensi, le luci basse, le candele, la musica, i nostri sorrisi, questa fetta di Marrakesh perché abbiamo importato tutto da Marrakesh vent'anni fa proprio perché fosse tutto più veritiero possibile e oggi ci dicono che ci siamo riusciti, ci dicono che scendendo quelle scale non si è più a Palermo, si potrebbe essere in qualunque parte del mondo. Qui abbiamo voluto riprodurre il bagno turco arabo tradizionale, quello che possiamo trovare a Istanbul, a Tunisi ma nello specifico è quello marocchino, è quello di Marrakesh. Abbiamo proprio riprodotto i vari passaggi c'è il tepidarium, il frigidarium, il calidarium, utilizziamo gli stessi prodotti che importiamo proprio dal Marocco quindi il sapone nero marocchino, l'olio di mandorle, gli incensi vengono direttamente dall'India. Ci si immerge in un percorso di purificazione, di rilassamento ma vuole essere anche un momento di socialità, di scambio, di condivisione con l'amica, col compagno, col gruppetto di lavoro un addio al nubilato, c'è il nostro personale che amorevolmente lava, coccola, massaggia, fa esfoliazioni e segue il nostro ospite dall'inizio fino al momento finale che è il momento in sala relax, in questa sala relax in cui offriamo sempre una tisana, un infuso con dolcetti arabi alle mandorle. In vent'anni migliaia di storie sono passate da questa mamma, penso che si siano incontrate persone, si siano nati amori, si siano firmati contratti di lavoro penso che ci siano state tantissime storie qui e tantissime ancora ne vogliamo raccontare io sono la seconda generazione, mia figlia oggi ha 11 anni Luna, sogna un giorno di lavorare qua nonostante io la sproni a andare all'estero però sento che il suo cuore comincia a legarsi a questo posto quindi per noi non può essere altro che motivo di orgoglio grazie a tutti